Buonasera a tutti, voglio ringraziarvi per la fiducia che avete dato a tutti noi consiglieri, sindaco, i grandi ingegneri che erano giunti. Ringraziarvi per la fiducia e anche sono sicuro che ci avete dato un incarico un poco pesantuccio, perché la situazione di questo paese la conosciamo tutti, però sono sicuro che con il nostro arbitro, quale il sindaco Giunta e noi consiglieri assessori, gli assessori che l'ingegnere nominerà, penso che daremo tutto per cercare di sistemare tutto quello che è possibile. Alfonso Calandra ha toccato, il mio carissimo e grande amico Alfonso Calandra, ha toccato un tasso bellissimo che nessuno mai ne ha parlato di questi parchi. Due anni fa l'ingegnere Giunta, il sindaco Giunta, mi ha nominato presidente dell'Opera Pia Cassattoria. Queste sono delle strutture, però sono delle cose che la cittadinanza ne sa poco. Io sono stato un tipo che non mi piace parlare tanto, però voglio dire una cosa, quando sono stato io presente all'Opera Pia nel 2009 sono arrivati dei bei finanziamenti, 3 milioni e 200 mila euro e un altro di 250 mila stava arrivando e sono sicuro che grazie a quello che è successo, perché poi cadendo il sindaco sono cadute tutte le cariche, sono ancora fermi che lo sindaco dobbiamo impegnarci perché io, Filippo Naselli, quelli che lei ci ha nominato abbiamo fatto un lavoro enorme. Speriamo che questi sforzi che sono stati fatti vengono ripresi, 3 milioni e 200 mila euro che erano per l'Opera Pia, l'ospizio, l'ex USL, sono delle cose che potrebbero portare, a mio modo di pensare, delle belle cose. Chiudo solo ringraziando per la fiducia che ci avete dato, prima l'ingegnere Giunta con un risultato ottimo e poi tutti noi. Grazie.